siamo con massimiliano scaglia in questa vigilia settimana di vigilia che porta alla ternana massimiliano una gara importante lo sono tutte questa forse di più o no questo me lo dici tu ma è già un paio di forse un mesetto che diciamo ogni settimana che la gara più importante in effetti è così però la fine si avvicina e quindi è ovvio che ogni partita nella nostra condizione di classifica è oggi come sabato scorso anche nella condizione di classifica degli avversari sia decisiva scontro diretto perché l'ossi lo sente anche la ternana da questo punto di vista beh siamo abbiamo lo stesso punteggio forse noi abbiamo il vantaggio del risultato della partita di andata quindi per forza di cosa loro devono trovare un risultato più che positivo e noi per forza di cosa dobbiamo trovarlo per scongiurare qualsiasi altra cosa negativa si gioca nelle migliori condizioni mentali visto che la vittoria contro il crotone ha dato sicuramente tanto entusiasmo e adesso c'è l'occasione anche per riuscire a raddrizzare il rendimento fuori casa beh la vittoria è stata una grossa iniezione di fiducia l'avevamo cercata già da qualche partita non arrivava seppur avessimo creato tanto in altre circostanze sabato è stata roccambolesca ma secondo me ce la meritavamo e quindi adesso carichi e fiduciosi affrontiamo questo nuovo ostacolo quota salvezza secondo te non lo so credo che sia necessario in queste tre partite per lo meno una vincerla e una pareggiarla e non sono sicuro che possa bastare ma credo che potrebbe essere già probabilmente una quota per poter guardare la situazione con un ottimismo ci auguriamo che vada tutto bene grazie alla massimiliano scaglia